Domani sera alle 18 nella sede di ATS Bergamo in sala Lombardia di via Galliccioli 4 a Bergamo in programma una serata particolare dal titolo Cura quando non c'è cura vita fino in fondo a cura di diverse associazioni vicine al mondo dei malati terminali. Tanti relatori in un appuntamento che vuole essere d'aiuto per chi nella propria vita entra in contatto con l'esperienza legata a questo tema. Si parlerà di vita e si parlerà anche di cura di quella fase della vita in cui non c'è più cura per la malattia ma c'è ancora tanta cura possibile. Si potrà partecipare in presenza e a distanza la serata sarà visibile anche sul canale youtube della Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Bergamo.